Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Qualcosa sta scuotendo il mondo del tennis, poche ore prima della tanto attesa esibizione in Arabia tra Yannick Sinner e Daniel Medvedev, una notizia scioccante ha fatto il giro del web. Simona Alep, ex numero uno del tennis femminile, è stata squalificata per ben nove mesi per doping. La decisione è arrivata dal TAS di Losanna, che ha accusato la tennista rumena di aver utilizzato incautamente un integratore contaminato, seguendo i consigli del suo fisioterapista, che però non ha qualifiche mediche. Questa sentenza non solo ha colpito duramente la carriera di Alep, ma ha anche fatto scattare un campanello d'allarme per Yannick Sinner. Perché Sinner è coinvolto. Anche lui ha un caso aperto riguardante l'uso di una pomata, applicata per errore, che contiene una sostanza vietata. Nella sentenza su Alep, il TAS ha sottolineato l'importanza che gli atleti di alto livello non affidino l'uso di prodotti a rischio a persone senza qualifiche mediche. Un dettaglio che potrebbe avere implicazioni significative anche per il caso di Sinner. La situazione è tesa. E a voi, cosa pensate possa accadere ora? Scrivetelo nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.